Reazioni a caldo post derby. Schifo, schifo, semplicemente schifo. Peggiore in campo, Lazzari, mi dispiace. Non ha fatto la fluidità tra centro campo e difesa e attacco, niente. Corre, 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 ma a sto giro zero. Savic, più grande delusione. Dopo quello che ha combinato contro la Samp, che era un porno veramente meraviglioso, contro la Roma è stato negativo. Male, male, male la correlazione tra centro campo e attacco. Male, non mi è piaciuta. Si è creato tanto e non si è segnato. Ciro, ma che cosa mi combini, Ciro? Mannaggia la miseria, mannaggia, mannaggia la miseria. Che era un derby da vincere quello, era un derby da vincere quello. Ma dai, contro una squadra inguardabile. Cioè, negli ultimi 80 anni, probabilmente, una delle squadre più terribili della storia. Uno che non ha idea, Paolo Opens. Quell'altro che si sente il manolasse della situazione, ovvero Fazio che fa schifo. Poi non gioca per il tuo, non si capisce il motivo, andiamo a perdere. Clivert che dovrebbe cambiare cognome perché sennò suo padre si impicca. Ma stiamo scherzando. Forse l'unico mezzo decente è stato Under. Zeco inguardabile. E poi c'è stato il rigore. E vabbè, ma il rigore che c'era, è inutile mi venite a dire, c'era. Non fate i tifoidi. Il rigore c'era. Il rigore c'era. Kolarov è Kolarov. È il piede sinistro del demonio, quindi ogni tiro era gol. Note negative e la precisione. Simone in queste due settimane ora deve prendere e fare legna per quanto riguarda la fase offensiva. Ma non sul traccheggio di gioco o sul gioco sulla balistica, ma per quanto riguarda il tiro. Cinque pali, traverse, cinque. Due hanno fatto la barba al palo, due. Un'occasione di fronte sparata in bocca a Paolo Lopez. No, non possiamo. Comunque, uno a uno non mi è piaciuta la parte laziale né la parte romanista. Però è stato molto bello il derby. Ai punti dove vince la Lazio, senza giri di parole. Senza giri di parole. E io faccio, anche se ormai è tardi, un, per favore, presidentaccio, vai a comprare dei giocatori per cortesia che non si può rimanere così. Al vostro serpito è tutto. Un caro saluto. Un caro saluto. Grazie.